Stefania Mion, Lady Chef Veneto. Da dove vengono le sue colleghe di brigata? Le mie colleghe di brigata vengono principalmente dalla provincia di Padova, da Vicenza, Verona, le province di tutto il Veneto le aggreghiamo ancora assieme a noi. Ecco, cosa presentate questa sera? Questa sera presentiamo una frittella di gnocco di verdura, una frittella fritta, semplice impasto di gnocco, ripieno con le verdure. Poi presentiamo una knell di gnocco con sugo di coniglio bianco, gnocco di patata semplice, fatto come si faceva una volta, con patate, uovo e farina. E poi presentiamo il coneglio in toccio con la polentina bianca che è tipica di Padova. In bocca al lupo! That's it!